Musica 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 abbiamo parecchi ma mia voce è rosa vi ragazzi ragazzi credo non 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 è ma Non sono solo rimane, non sono riletto ma proprio non sono riletto non d'arciare si tu lo quei C'è questo tipo, la gente ha Beissabia, prima non si la città la città si c'è Bessa il drop isobietto è un problema, era un problema non si è già là, se si è da qui va bene Noi, hai detto la città C'è più di me, Non, 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 non. Non, ma cosa è la mia vita? Ma cosa è la mia vita? Non, non. Ma cosa vuoi? Non, non. Non, non. Non mi ascazione. Ma cosa vuoi? Non, cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Non, 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 non. Lampaggia e non sono tutti i giorni. Fai come, non? Sono bene, sono bene, sono bene. Amm... Non è bene, non. Non, non è bene. Non sto bene, non è bene. Non sto bene. Non mi non sto bene. Come si sono? Non mi non sto bene, non sto bene. Come ti sono? C'è un'amateria che non si può essere? No, non c'è un'amateria che ci sono. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a tutti.